Musica Palazzo Moff approva bilancio e finanziaria, frizioni nella maggioranza con numerose sospensioni. I documenti puntano su tagli ai costi della politica, semplificazione degli enti subregionali, sostegno alle imprese e fitto dell'Università di Sernia. Oltre 100 nuovi profughi arrivati in Molise, una metà a Vinchiaturo, l'altra a Monteroduni, dove già ce n'erano 40. Sono in gran parte dell'area subsahariana, sognano un futuro migliore, lontani dalla loro terra e dalla povertà. Musica Santoro resta in carcere, sorvegliato a vista e la GIP ha accolto le istanze dell'avvocato difensore Messere, segnalando a chi di dovere la natura di tossicodipendente e alcolista dell'uomo, che ha tentato di uccidere la barista. Disposta la nomina di un perito per accertarne lo stato psichico e l'eventuale trasferimento in ospedale. Comunali Termoli, centrodestra diviso. Dopo l'annuncio dell'avvocato Michele Marone, a sorpresa è arrivata anche la candidatura di Di Brino con il nuovo centrodestra. Di Giandomenico ha presentato la sua squadra di liste civiche. In serie di derby Agnone Termoli, domani in campo le due squadre. Gioca poi solo la promozione dove spicca il match tra Castelmauro e Cerce Maggiore. Musica Buongiorno dal Tg di Telemolise, in apertura la pagina amministrativa. Dopo una lunghissima seduta, il Consiglio regionale ha approvato la finanziaria e il bilancio 2014. Tagli ai costi della politica, sostegno alle imprese, semplificazione degli enti sub-regionali e finanziamento per il fitto della sede dell'Università di Sernia sono i temi portanti dei documenti contabili. Non sono mancate frizioni nella maggioranza di centro-sinistra che hanno determinato ore ed ore di sospensione dei lavori. Ci dice tutto in questo servizio. All'alba, erano le 4.30 di stamattina, il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge finanziaria, il bilancio di competenze e di cassa per l'anno in corso e quello pluriennale 2014-2016. Dopo alcune polemiche iniziali dovute all'assenza dall'Aula del Governatore per impegni concomitanti, la seduta pomeridiana ha subito ore e ore di sospensione che sono servite alla maggioranza per placare i malumori interni e per condividere, seppur con alcune modifiche, le proposte di Paolo Frattura. A seguire, un ulteriore lungo confronto a lavori sempre sospesi tra maggioranza e opposizione ha spianato la strada all'approvazione dei documenti contabili. È iniziato così, nella tarda serata, il confronto in Aula partendo dalla discussione dei tanti emendamenti presentati sia dalla maggioranza sia dalle opposizioni, in tutto una settantina. Tra quelli approvati spiccano i tagli ai costi della politica, con l'abrogazione dei 5 centesimi per residente, circa 16.000 euro all'anno, destinati ai gruppi, l'eliminazione dell'adeguamento Istat sugli stipendi dei consiglieri regionali e il taglio sui vitalizi pregressi del 10% fino all'importo di 3.000 euro mensile e del 20% oltre tale importo. Approvato anche l'emendamento proposto da Michele Iorio per finanziare il fitto della sede dell'Università di Sernia, seppur ridotto da 140.000 a 45.000 euro per l'anno in corso. Per il resto, la finanziaria e il bilancio prevedono ulteriori tagli alle spese dei fitti per decine di miliardi di euro, la semplificazione amministrativa, il riordino degli enti sub-regionali, il sostegno al sistema dell'impresa, la tutela dei redditi più bassi e del lavoro. Nel corso del dibattito, l'ex governatore Michele Iorio ha riproposto anche il tema della ricostruzione post-terremoto e del licenziamento dei 218 precari della protezione civile. Io credo che sulla ricostruzione davvero si sia perso un anno. Si è fatta una grande confusione, non si sono utilizzati fondi disponibili e soprattutto si sono attuati licenziamenti del tutto illegittimi, interrompendo un percorso che tra tante difficoltà avevamo ormai costruito per una prospettiva molto più veloce. Immaginare già la fine dell'utilizzo di questi fondi al 2018, andando di questo passo diventa una previsione addirittura ottimistica, ma una previsione ancora lontana. Io vorrei ricordare che per esempio è mancata proprio anche la decisione politica di chiedere al governo l'esclusione dal patto di stabilità dei fondi dedicati alla ricostruzione, come è per legge, e questa regione deve rivendicargli questi diritti. Soddisfatto invece il presidente Paolo Frattura, che ha auspicato la fine della stagione dei veleni per una collaborazione profigua, detto, e i rappresentanti della maggioranza. Tutta una serie di operazioni che se verranno rispettati i tempi che il presidente ci ha detto in aula, io sono convinto che qualcosa di buono, nonostante la ristrettezza dei fondi, la riusciremo a portare a casa. Poi per le imprese ho apprezzato molto la tempistica per la nuova legge urbanistica, per la nuova legge sui lavori pubblici e sulle norme antisismiche. Dovrebbe essere uno snellimento di tutta la macchina burocratica per far ripartire l'economia con le imprese. Il lavoro si crea con le imprese, se diamo una mano alle imprese, io credo che riusciremo a superare anche il problema drammatico dell'occupazione in questa regione. Intanto sullo stanziamento da parte della regione, un attantum soltanto per il 2014, di 45 mila euro a copertura parziale del canone di locazione per l'uso da parte dell'università della sede di Via Mazzini a Isermia, è intervenuto il rettore Palmieri. L'Ateneo, ha detto, pur ringraziando per la disponibilità così manifestata, segnala che si tratterebbe di un intervento comunque inidoneo per la misura insufficiente dello stanziamento e per suo carattere episodico, a giustificare la permanenza dell'Ateneo nella predetta sede. Il fondatore di Costruire Democrazia, Massimo Romano, è intervenuto sulla questione sanità in Molise. Primo punto del programma, ha detto, contro l'asse Frattura-Patriciello ed il tentativo di smantellare la sanità pubblica e il Cardarelli. Dopo un anno di gestione Frattura, ha continuato l'ennesima bocciatura del tavolo tecnico. Il debito sanitario è aumentato di 50 milioni per il 2013, mancano i programmi operativi, la sanità è allo sbando, nessuna delle facili promesse elettorali è stata mantenuta. Ma, ha continuato Romano, il governatore Cinguetta su Twitter, continuando la politica degli slogan, dei finti proclami e dei rimpassi di giunta, quinto assessore e indennità. Costruire Democrazia, ha detto ancora Romano, ha una certezza tutelare l'ospedale Cardarelli e coinvolgere cittadini, associazioni, categorie ed operatori sociosanitari nella scrittura del nuovo programma operativo. Sono arrivati questa notte in provincia di Campobasso una sessantina di migranti provenienti dalla Sicilia. Saranno ospitati fino a giugno alle cupolette di Vinchiaturo. La maggior parte arriva dal Pakistan, ma ci sono anche nepalesi e africani. A gestire la loro permanenza la prefettura di Campobasso. Sentiamo Marta Martino. Sono una sessantina gli extracomunitari arrivati in nottata in provincia di Campobasso. Fino alla fine di giugno saranno ospitate alle cupolette di Vinchiaturo. La maggior parte di loro sono pakistani di vari gruppi ed etnie. L'altro nutrito gruppo è costituito da africani, Gambia, Senegal, Somalia, Mali, Nigeria, Burkina Faso e infine quattro nepalesi e un giovane del Bangladesh. Tutti arrivano dalla Sicilia dopo un lungo viaggio verso la Libia, confluiti dai rispettivi paesi. Tante storie che si incrociano, tanti destini, ma tutti hanno un comune denominatore. Ciò che si lasciano alle spalle, guerra, povertà e difficoltà di ogni sorta e ciò che sperano di trovare pace, tranquillità, una vita migliore. Wasim, da dove sei venuto? Sono venuto da Pakistan. Quanto tempo sei in Italia? Sono arrivato in Italia un mese fa. Sì, ho lasciato la mia famiglia. E cosa ti aspetti di trovare in Italia? Sicurezza, perché in Pakistan la situazione economica è pessima. Abbiamo molti problemi. Tina, da dove sei venuto? Da Nigeria. Sei arrivata in Italia con altre donne? Sì, come sei arrivata in Italia con la nave? Ora sei in Molise, cosa ti aspetti di trovare in Italia? Cosa ti aspetti di trovare in Italia? Sicurezza e non più rischi. Si combatte, si spara, ci sono troppi rischi. Ho perso i miei genitori. Sono venuta in Italia perché non ho una famiglia, non ho fratelli, non ho sorelle. I miei genitori sono stati uccisi e avevo paura di essere uccisa, anche io. Ho bisogno di mettere da parte qualcosa per spedire alla tua famiglia. Hai bambini? Sì, ho due figlie. A gestire il soggiorno la prefettura di Campobasso, che sta provvedendo a predisporre le identificazioni, le ultime visite mediche, ha messo a disposizione una mediatrice culturale che sta cercando come può di esaudire i piccoli desideri dei giovani migranti. E altri 50 africani della fascia sub-sahariana sono arrivati in nottata in provincia di Sernia. Saranno ospitati in una struttura alberghiera di Monte Roduni. Sentiamo in proposito del servizio di Enzo Di Gaetano. Nuova emergenza profughi anche in provincia di Sernia. Ancora una volta è stato scelto l'olide di Monte Roduni per ospitare i migranti in arrivo dall'Africa sub-sahariana. Si tratta di 50 ragazzi di colore sbarcati in Sicilia negli ultimi giorni. Portati in aereo a Napoli Capodichino e poi in Pullman in provincia di Sernia a Monte Roduni, dove li aspettavano i volontari di Croce Rossa e associazioni assistenziali, oltre che rappresentanti dell'ASREM e della Prefettura che hanno coordinato le operazioni. Sono stati immediatamente accolti, sottoposti a controllo medico e rifocillati, con un pranzo caldo preparato per loro dal gestore dell'Holiday, che ora si trova ad ospitare nella sua struttura un totale di 86 migranti, non 90 perché nel frattempo quattro profughi della prima ondata di 40 si sono allontanati dalla struttura volontariamente. 86 uomini, tutti molto giovani, tra loro anche ragazzi di neanche 20 anni, in viaggio sui barconi e poi tratti in salvo dalla marina militare italiana. C'è incertezza sul loro futuro, per ora resteranno a Monte Roduni almeno per qualche mese, sempre se non si allontanino prima volontariamente per trovare ospitalità da parenti o amici in Italia o in Europa. Sì perché per la maggior parte di loro il traguardo finale non è l'Italia, ma la Francia o tutt'al più la Germania o l'Inghilterra. Il nostro paese è visto solo come approdo in Europa, per spostarsi poi in nazioni certamente più attraenti sotto il punto di vista economico ed occupazionale. Ed ora la giudiziaria resta in cella Umberto Santoro, l'uomo di 36 anni di Campobasso che ha coltellato una barista in una sala slot della città. Il giudice Teresina Pepe ha dunque convalidato gli arresti e la misura cautelare in carcere perché ha spiegato nell'ordinanza depositata in tribunale, anche in una casa di cura potrebbe reiterare i reati. Il grave stato di disagio psichico di Santoro era stato evidenziato dal suo avvocato Arturo Messere, che ne aveva chiesto il trasferimento in una casa di cura. Il GIP però ha accolto le altre istanze del legale, segnalando alla direttrice del carcere e al personale sanitario la patologia psichiatrica del 36enne, il suo stato di tossico dipendente e assuntore di alcol. Inoltre la Pepe ha disposto che sia sorvegliato a vista ed ha autorizzato da subito il trasferimento di Santoro in ospedale, in una stanza riservata ai detenuti, e sempre sorvegliata qualora il carcere non fosse in grado di curarlo adeguatamente. Il giudice infine si è riservata, come è chiesto dall'avvocato Arturo Messere, di provvedere alla nomina del perito incaricato di valutare lo stato psichico di Umberto Santoro. Ed ora la politica e la centrodestra scenderà in campo diviso alle elezioni amministrative di Termoli. All'indomani della candidatura dell'avvocato Michele Marone è arrivato a sorpresa l'annuncio dell'ex sindaco Antonio Di Brino che ha deciso di riproporsi alla guida della città con il nuovo centrodestra, i particolari nella servizio di Fabrizio Occhionero. Venerdì sera al termine del tavolo del centrodestra sono sembrati tutti d'accordo, o quasi, ai voti l'avvocato Michele Marone, già portavoce della Rete Civica Nazionale, l'ha spuntata sull'assessore provinciale Rita Colaci. Sabato mattina le cose sono cambiate, la coalizione andrà divisa alle elezioni di fine maggio perché anche l'uscente Antonio Di Brino ha deciso di ricandidarsi sindaco, ma lo farà con il nuovo centrodestra. Una spaccatura nel giorno in cui Marone è stato presentato ufficialmente alla guida dello schieramento composto per ora da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, DC, Democrazia Popolare, Progetto Molise, Termoli Futura e lista civica per Termoli. Non potevo più impegnarmi con la Rete Civica Nazionale, abbiamo fatto una lista civica per Termoli che deve cercare di mettere in campo delle proposte programmatiche per andare incontro alle esigenze della gente. In forza di questo movimento e di questa aggregazione poi ho ricevuto la sollecitazione anche di amici appartenenti alle forze politiche del centrodestra e che mi hanno chiesto la disponibilità ad una eventuale candidatura. Di fatto la coalizione è spaccata? Ma guardi, allo Stato è il nuovo centrodestra che oggi apprendo che abbia ufficializzato o meno la candidatura di Di Brino. Ma comunque, io sono un moderato di natura e caratterialmente sono aperto a tutte le soluzioni. Alla conferenza la scelta di Di Brino è stata minimizzata ma l'ex sindaco dopo una notte di riflessioni e di telefonate ha confermato il suo rinnovato impegno. Io mi candido sindaco con il nuovo centrodestra, ho già sentito sia il senatore Di Giacomo che è l'On. De Camillis, mi hanno confermato ufficialmente questa disponibilità a candidarmi a sindaco quindi confermo assolutamente in maniera positiva e spero anche propositiva questa mia candidatura. Ma lei si sente tradito da Forza Italia? Beh oddio, il tradimento è un'espressione un po' brutta. Diciamo che le motivazioni e le ragioni apportate al tavolo non sono state così determinanti da poter far sì che ci fosse la ricandidatura e d'altra parte non c'è stata nemmeno la ricandidatura di un esponente di Forza Italia. Quindi il partito in questo caso ha abdicato a quello che poteva essere il suo ruolo ed è per questo che evidentemente bisogna fare una scelta diversa. E nel quadro delle amministrative a Termoli manca la posizione ufficiale dell'Udc. E stiamo a Termoli dove Remo Di Giandomenico ha ufficializzato la candidatura alla guida della città sostenuto da cinque liste civiche. Il già quattro volte sindaco ha parlato di primarie fatte al contrario e di un popolo che oggi si è unito nella coalizione termolese per riprendersi il comune. Da giorni l'ufficio politico di Via Malta è al lavoro per organizzare le liste e raccogliere le firme. Per ora ne sono cinque e tutti hanno in comune il nome della città, popolari per Termoli, Termoli Giovani, Termoli Si, Alba Termolese e Termoli Nuova. È questa quella che Remo Di Giandomenico non a caso ha chiamato la coalizione termolese pronta a sostenerlo come candidato sindaco alle elezioni di fine maggio. Aspiranti consiglieri, amici e simpatizzanti hanno affollato la sala della discoteca Notti Selvagge da dove già quattro volte sindaco ha ufficializzato la candidatura e ha parlato di primarie fatte al contrario. C'è una iniziativa di popolo che mi vuole utilizzare come strumento per tornare a essere protagonista dello sviluppo di questa città. Insieme riuscire a portare avanti iniziative per lo sviluppo della città e nello stesso tempo una squadra nuova di giovani, di persone che hanno voglia di fare qualcosa per la città e insieme contribuire anche alla nascita di una continuità. Circondato da giovani candidati consiglieri, Remo di Giandomenico ha lanciato la sua sfida. Popolo è il termine più ricorrente nel corso del suo intervento in cui ha parlato di una città in ginocchio dove la gente è disperata e rivendica diritti. Il popolo deve tornare a prendersi il comune perché il comune è del popolo il messaggio incastonato dal candidato sindaco che ha definito uscita e non uscente l'amministrazione è decaduta. Ha poi richiamato i motivi dell'identità locale dalla bandiera giallorossa alla necessità di fare squadra per raggiungere un risultato superando, affermato, logiche di partito e la miriade di sigle che hanno frammentato la città. Dove si colloca politicamente questa coalizione? Nel cuore dei termolesi. Iniziare un'impresa che potrebbe essere impossibile stando dalla situazione drammatica in cui si trova Termoli e si trova il territorio di Termoli del Basso Molise ma quando il popolo si unisce niente è impossibile e io penso che l'unione del popolo possa riportare una speranza a tutti un messaggio di fiducia alla gente e insieme con la gente riprendere un cammino che si è interrotto da troppo tempo. Ed entra nel vivo la campagna elettorale anche a Campobasso questa mattina inaugurazione della sede elettorale di Pino Saluppo candidato alla carica di sindaco e sostenuto da tre liste tra cui quella di Fratelli d'Italia di Filoteo Di Sandro. Abbiamo rivolto l'invito al Polo Civico a correre insieme per dare una opportunità di sviluppo alla città ha detto Saluppo nel corso dell'incontro. Michele Durante ha invece scelto Villa De Capua per presentare il Movimento Politico Culturale Lab Nell'area del centro-sinistra c'era bisogno di un altro movimento ha dichiarato Durante un movimento con una progettualità moderna e solidale fatto di gente comune e che punti agli interessi collettivi e non a quelli dei singoli. Nei prossimi giorni sarà presentata la lista. Si aprono le porte dell'opera 10 settembre per tre famiglie sfrattate dallo IACP a Di Sernia. La decisione con le motivazioni della straordinaria urgenza sociale è stata presa dalla Giunta Brasiello che ha reso disponibile l'immobile comunale di via orientale. Sentiamo. Si aprono le porte dell'opera 10 settembre per tre famiglie sfrattate dallo IACP. La decisione con le motivazioni della straordinaria urgenza sociale è stata presa dalla Giunta Brasiello che ha reso disponibile l'immobile comunale di via orientale. Le tre famiglie disagiate avevano ricevuto da tempo lo sfratto esecutivo e siccome hanno tra i loro componenti dei minori la Giunta Brasiello si è posta il problema di trovare loro ospitalità per non far perdere loro la patria potestà. Per questo motivo è stata resa disponibile l'ex opera 10 settembre in cui le tre famiglie saranno ospitate per quattro mesi in attesa che il comune trovi per loro altre sistemazioni abitative. In questo momento stiamo ricevendo una serie di segnalazioni dai servizi sociali di famiglie che si trovano in disagio. Naturalmente parliamo di sfratti esecutivi e quindi con il rischio di trovarci famiglie sulla strada. A quel punto abbiamo deciso in accordo con il sindaco e con la Giunta di trasformare quello che in effetti già in passato lo era un centro di accoglienza in quel caso erano gli orfani oggi invece parliamo di famiglie e abbiamo trasformato questa struttura in una casa di accoglienza con la possibilità di ospitare tre famiglie tra i nuclei però per un tempo molto limitato parliamo di due mesi più due quindi con la possibilità di rinnovarli per altri due mesi tempo necessario per poter reperire sul territorio degli appartamenti adeguati per potergli affidare. Naturalmente è un primo passo che ha fatto questa amministrazione successivamente ci siamo anche preoccupati di creare una rete di solidarietà con i comuni limitrofi attraverso l'ambito che ci hanno dato anche loro la disponibilità di reperire alloggi appartamenti nei loro centri storici per poter gestire questa emergenza che ormai è un'emergenza sociale di dimensioni veramente difficili da controllare. Già nei prossimi giorni arriveranno le prime tre famiglie e insomma è un esperimento come pensa che andrà dovranno anche adattarsi insomma? Allora la struttura sarà gestita da un'associazione l'associazione solidarietà che diciamo è un braccio operativo dell'amministrazione comunale sarà capire se c'è la possibilità della convivenza in effetti è una struttura diciamo alberghiera ci sono tre grandi stanze con tre grossi servizi igienici a disposizione di ciascuna camera e l'unica diciamo condivisione sarà l'aspetto del pranzo perché avranno una cucina in comune con una grossa sala da pranzo in comune. Drammatico tamponamento sulla tangenziale di Isernia siamo alla cronaca un tira proveniente da Roma ha investito e praticamente distrutto una Honda Civic che era ferma sul lato destro della strada vediamo nelle immagini probabilmente si tratta di una distrazione del conducente del pesante mezzo o di uno stop improvviso dell'auto causato da un guasto da un malore i due occupanti della Honda trasportati urgentemente al Veneziale fortunatamente non hanno riportato ferite gravi sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri e adesso parliamo di una strage di pecore sul tratto ferroviario tra Venafro e Isernia nei pressi di Pozzilli un greggio sfuggito al controllo del suo custode è attraversato i binari proprio mentre sopraggiungeva il treno Campobasso Roma una ventina di uvini travolti e uccisi sul posto vigili del fuoco e carabinieri per i rilievi del caso il treno è rimasto fermo a lungo prima di poter ripartire Università del Molise in prima linea a sostegno delle imprese innovative presentata a Campobasso la Molise Start Cup giunta alla sesta edizione il servizio è di Anna Maria Di Matteo il grado di competitività di un'azienda si misura anche attraverso la sua capacità di innovazione tecnologica la Molise Start Cup premia le migliori ed originali idee imprenditoriali ad elevato contenuto innovativo presentate sotto forma di business plan elaborati da studenti laureati ricercatori e docenti dell'Università del Molise ma anche da soggetti non necessariamente legati al mondo universitario l'iniziativa giunta alla sesta edizione vede in prima linea l'Università del Molise sostenuta dalla regione dall'Union Camere la presentazione a Campobasso nel corso di un incontro dal titolo l'idea da sola non basta oltre all'idea ci vuole lo sviluppo delle competenze e soprattutto ci vuole la reta che permette alle idee di diventare fattive e competitive a livello nazionale ed internazionale non si può più andare da soli parliamo di questa iniziativa in maniera direi molto positiva perché questa è la nostra sesta edizione e abbiamo saltato due anni per varie ragioni ma in realtà i numeri ci danno molto da pensare perché dalla prima iniziativa in cui sia la qualità delle idee sia poi le competenze di chi partecipava il business plan che arrivavano erano magari un po' carenti allora sfondare la cultura dell'impresa innovativa non è facilissimo dall'ultima edizione abbiamo avuto delle grossissime soddisfazioni quindi speriamo anche ora che ormai la cultura dell'innovazione sia sempre più presente anche nella nostra regione quali sono le opportunità che offre l'Unione Europea l'Europa per finanziare questi progetti il budget dell'Unione Europea per le prossime sette anni per il periodo dal 2014 al 2020 investerà circa 1.000 miliardi di euro per la crescita e per l'occupazione ci saranno i programmi che sono dedicati alle piccole e medie imprese come il programma Cosme per esempio la prima programma dell'Unione Europea che è dedicata interamente alle piccole e medie imprese con il budget di 2,3 miliardi di euro l'assessorato regionale alle attività produttive è al lavoro per reperire ulteriori risorse oltre ai 6 milioni di euro già stanziati in favore delle piccole e medie imprese per l'innovazione tecnologica e la ricerca il tessuto imprenditoriale della nostra regione ha commentato l'assessore Scarabeo risentirà positivamente degli interventi mirati e concreti che consentono il potenziamento di tutto il sistema produttivo locale l'obiettivo è quello di dare opportunità concrete all'occupazione ha concluso l'assessore sono stati consegnati riconoscimenti al primo e secondo classificato del premio di storia moderna e contemporanea al Renato Lalli sentiamo in proposito Tonino Danese Renato Lalli è stato uno studioso e storico di fondamentale importanza per il Molise è capace di analizzare aspetti sociopolitici e personaggi della nostra terra dando un contributo gigantesco alla conservazione della memoria collettiva del territorio a lui il comune di Campobasso ha dedicato un premio di storia moderna e contemporanea premio che porta il suo nome una giuria di qualità ha vagliato i lavori tutti di spessore provenienti dall'ambito universitario il secondo premio è andato a una tesi di dottorato di Valeria Cocoz il primo ha una pubblicazione del ricercatore Massimiliano Marzillo come ha spiegato Giovanni Cerchia docente Unimol e membro della giuria il primo ha trattato diciamo del sistema dei partiti in Molise all'atto della ricostruzione post bellica dopo la seconda guerra mondiale il secondo invece è una tesi di dottorato dedicata alla storia moderna molisana e soprattutto al ruolo la funzione la storia diciamo delle donne in una fase importante e cruciale di questa regione Politica e istituzioni Molise negli anni della Repubblica il titolo del libro di Massimiliano Marzillo edito da Palladino e vincitore del primo premio io mi sono occupato del periodo che va dal 1943 al 53 in modo dettagliato con delle puntatine fino a insomma ecco agli anni 60 ci sono delle costanti che si presentano appunto dal fin dal 1943 e che si possono quindi rintracciare anche negli anni più recenti a partire dagli anni 80 in poi e lei pensi che dal dal 43 più o meno tutte le federazioni politiche entrarono immediatamente in crisi e furono soggette a gestioni commissariali insomma quindi diciamo che è una costante proprio la forte litigiosità Alla moglie di Renato Lalli Maria Rosaria il sindaco di Bartolomeo ha consegnato un mazzo di fiori ricordando la levatura culturale del marito Orgoglio di Campobasso Noi pensiamo che certe persone che hanno dato lustro alla nostra città debbano essere ricordati con un premio letterario di tal genere e molto probabilmente in futuro è in commissione già l'intitolazione di una strada al signor Renato il Nabucco di Verdi andrà in scena stasera alle 20 e 30 nell'auditorium Unità d'Italia di Isernia l'assessorato alla cultura del comune è riuscito a portare dunque un altro grande spettacolo nella struttura di corso risorgimento che per la prima volta ospiterà un'opera lirica si prevede il tutto esaurito è una rappresentazione da non perdere ha dichiarato l'assessore alla cultura Cosmo Galasso il Nabucco è considerata l'opera lirica più risorgimentale in assoluto quindi richiama gli ideali dell'Unità Nazionale a cui il nostro auditorium ha concluso si ispira nel nome ventesima edizione della Via Crucis stasera alle 20 e 30 a Sant'Elia Pianissi 90 attori e 100 figuranti rappresenteranno la passione di Cristo per le strade del paese in caso di pioggia la manifestazione verrà spostata a domani sera il servizio una Via Crucis con 90 attori e 100 figuranti quella che l'associazione culturale Crucis ha organizzato anche quest'anno in preparazione della Pasqua a Sant'Elia Pianisi 20 anni fa la prima rappresentazione su un'idea di Samuele con la vita poi quando lui è venuto a mancare i giovani dell'associazione hanno voluto continuare il suo progetto di fede un progetto che continua a suscitare dopo 20 anni la stessa devozione e lo stesso impegno abbiamo nove scene si parte dal convendo dove c'è la benedizione nella parte del parroco e si va verso la fontana della pace in paese dove ci sarà la prima scena che è l'ultima cena poi da questo momento in poi ci trasferiremo lungo tutto il cammino troveremo tutto il resto delle scene ci sarà l'orto dei Gezzemani ci sarà il Sinedrio nella località Madonina ci sarà il Pilato con la con la flagellazione poi andremo nella piazza principale del paese dove ci sarà praticamente l'incontro con Maria e dalla piazza si sposteremo verso il sacrato del convento dove ci sarà l'ultima scena nel frattempo incontreremo altre due scene che sarà quello dell'incontro con il Cinereo e la Veronica la manifestazione si svolge come ogni anno a cavallo della Domenica delle Palme proprio per preparare l'atmosfera della Pasqua un percorso di fede vissuto attraverso le scene più significative della Passione di Cristo noi proponiamo un cammino spirituale interiore dove chiunque viene può sperimentare questa questa passione che Gesù ha fatto ma la la può sperimentare sulla una diciamo una passione sua interna e volutamente abbiamo non abbiamo voluto rappresentare da 21 anni la resurrezione di Cristo per permettere a ognuno di noi di scoprire il vero senso della morte della propria morte interiore e cercare ancora in questa settimana che ci manca la Pasqua la resurrezione propria interiore c'è un'ultima ora giunta da poco in redazione riferisce ad un incidente stradale nei pressi di Vinchiaturo probabilmente legato anche al maltempo che sta imperversando sulla zona il traffico al momento sull'arteria è bloccata chiaramente maggiori aggiornamenti nel corso dell'edizione delle 19.30 del nostro Tg andiamo avanti organizzata dalla parrocchia di San Giuseppe lavoratore a Isernia si è svolta ieri sera la via Crucis lungo le strade del popoloso quartiere del capoluogo Pentro alla manifestazione religiosa guidata dal parroco Don Gianni hanno partecipato gli scout dell'azione cattolica dei bambini del catechismo la processione si è snodata lungo tutto il quartiere con canti e preghiere prima di rientrare in chiesa per la celebrazione della santa messa ieri sera la fondazione potito ha inaugurato l'art garage un contenitore di idee sentiamo io le antinolfi allora una nuova idea della fondazione potito questo garage dove praticamente sarà possibile dare corpo a tante idee la fondazione potito istituto di ricerca diagnostica per immagini ha creato un contenitore di idee dove appunto le idee possono prendere forma abbiamo pensato ad uno spazio espositivo nel quale ognuno può diventare un artista e ognuno può avere i suoi 15 minuti di notorietà la passione quindi genera arte la radiologia diventa arte dando vita così ad un inconsueto esperimento di rappresentazione artistica del concetto di tecnologia e sanità da tutto questo nasce art garage che oggi inaugureremo in questo spazio si terranno mostre di arte intineranti eventi culturali ma anche manifestazioni a carattere scientifico che avranno una cornice artistica che farà da sfondo e da domani art garage sarà aperto al pubblico senti quindi sarà possibile per esempio fare anche dei piccoli concerti qualsiasi manifestazione artistica assolutamente sì il luogo è nato adesso e quindi è aperto ad ogni iniziativa ad ogni idea nuova certamente però c'è sempre questo legame con la radiologia certo la radiologia abbiamo visto un murales c'è un murales fatto da eseguito da un artista campobassano Marco Madonna che ha interpretato la storia della radiologia ed è un murales molto bello si parte da Rengen l'inventore dei raggi X per arrivare ai graffettari new yorkesi e quindi espressione di colori bombolette divertente quindi se per esempio un artista vuole venire assolutamente sì noi siamo qui spettacolo di beneficenza questa sera alle 20 e 30 a Lydis Mattei di Iserni ha promosso dall'associazione Amore Senza Frontiere in scena una commedia di Dario Fo e Franca Rame per la regia di Paolo Paoluni interpretata dagli attori dell'associazione teatrale I Semiseri il ricavato sarà devoluto interamente all'orfanotrofio di Mutuenzi in Burundi e vi ricordiamo che alle 16 andrà in onda la replica della trasmissione Moby Dick nella quale si è parlato di attualità politica regionale nazionale e anche di università bene noi ci fermiamo qui è tutto per questa edizione adesso Meteo per lo Sport noi ci vediamo intorno alle 15 con l'edizione Flash arrivederci